Buongiorno, come vedete non sono allo Stato Maggiore della Difesa. Infatti quest'anno vorrei augurarvi buone feste da un posto particolare. Sono nella sede dell'Anafim di Roma. Questa associazione accoglie familiari con disabilità dei dipendenti militari e civili della Difesa. In queste sedi, che si trovano anche a Padova, Torino, Taranto e Caserta, i ragazzi vengono ospitati durante il giorno e vengono offerte le loro varie attività gestite da personale specializzato. Il prossimo anno partirà una campagna di divulgazione che si terrà in tutti gli istituti di formazione delle Forze Armate. Grazie a questa potrete conoscere le esigenze dell'Anafim, il loro lavoro, gli obiettivi. E già da gennaio, sul sito dello Stato Maggiore della Difesa, potrete trovare le informazioni necessarie per donare. Buone feste e auguri a tutti voi, alle vostre famiglie e soprattutto a coloro i quali le trascorreranno lontano. da casa, impegnati nelle attività operative della difesa. Ecco che arrivano i nostri amici. Allora eccoci qua, siamo tutti quanti pronti per fare gli auguri. Siamo 3, 1, 2, 1, via! Allora eccoci qua!